Gioacchino Rossini, compositore, 1792-1868. Sto cercando motivi musicali, ma non mi vengono in mente che pasticci, tartufi e cose simili, dice Rossini mentre compone lo Stabat Mater. Sembra aver esaurito la vena creativa musicale. Si ritira nella sua bellissima villa di Passy e si dedica alla composizione di ricchi menù. Organizza in casa banchetti invitando personaggi celebri come Alessandro Dumas e scrive Ho pianto tre volte nella mia vita, quando mi fischiarono la prima opera, quando sentì suonare Paganini e quando mi cadde in acqua durante una gita in barca un tacchino farcito ai tartufi. La musica diviene allora un peccato di vecchiaia, così si rivolge a Dio. Ero nato per l'opera buffa, lo sai bene. Poca scienza, un poco di cuore, tutto qua. Sì dunque benedetto. E concedimi il paradiso. Muore, sazio, nel 1868.